Molti di noi hanno trascorso la maggior parte della vita senza accedere alle telecomunicazioni o ai servizi informatici. E molti di noi non vivranno così a lungo da poter vedere il fiorire dell'era dell'informazione. Ma lo vedranno i nostri figli. Sono il nostro bene più grande. I giovani del mondo devono essere responsabilizzati per poter partecipare alla costruzione dell'era dell'informazione. Devono diventare i cittadini del mondo dell'informazione e siamo noi a dover creare le migliori condizioni per favorire la loro partecipazione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!